Non posso fare il ruffiano con voi, non ci riesco, non è nella mia indole. È facile fare giornalista di parte a Napoli. Attacco tutto e tutti, difendo il Napoli, passo per eroe, la gente mi ferma, il dottor lei ci difende, è bravo e va tutto bene. C'è un particolare. Sono 30 anni che sono qui e ho sempre parlato con la mia coscienza prima di tutto. E a volte la mia coscienza mi fa andare contro la massa, come questa volta. Mi dispiace ma non posso seguirvi nei piagnistei che sto sentendo e sto ascoltando da tutte le parti. E non c'è nessuna linea editoriale, credetemi. Non c'è nessun rancore verso nessuno a me di quello che ha detto De Laurentiis nei miei confronti. Non me ne frega proprio niente. Quello che pensavo prima penso dopo. E lo penserò, anche a suo favore. Qualcuno mi taccia di vedovella sarrista, ma manco per niente. Sono convinto che Carlo Gelotti sia un grandissimo allenatore. Mi sono solo spaventato che avesse perso le certezze sarriane per andare incontro a qualcosa che non si vedeva. Ma dopo Torino ho intravisto una strada. E ieri sera ho detto due cose molto semplici, di cui una molto forte e una meno importante. Ovviamente i siti devono fare questo famoso gioco dei click, il click biting. E quindi cosa rilanciano? Quello che fa più scalpore, che è la parte minore. Io ho detto, sono preoccupato e sono soddisfatto. Sono preoccupato perché ho paura che a Napoli ora si parlerà solo di arbitri. Sono soddisfatto perché ho visto un Napoli che mi è piaciuto, mi ha convinto, mi ha soddisfatto. E anzi, ho detto una cosa forte, che probabilmente mi farà fare anche una brutta figura, perché potrò essere smentito. Ho detto, io dopo la partita di ieri ho la certezza interiore che il Napoli lotterà per lo scudetto. Che questi sei punti sono recuperabili. Che nonostante il divario sulla carta quest'estate sia aumentato tra Juventus e Napoli. Perché loro hanno comprato Cancelo, Perin, Bonucci, Emre Can, non solo Cristiano Ronaldo, che si è travestito da Pacione, come lo Marco Pacione, come l'ho un po' preso in giro nelle prime sei partite, che erano di assaggio, visto che ha avuto un calendario così comodo da potersi permettere di quasi osservare il calcio italiano. E ieri ha dimostrato chi è Cristiano Ronaldo, un giocatore di altra categoria. La Juve ha comprato questi. Noi abbiamo comprato dei meravigliosi prospetti, al punto che gli ho dato anche sette al mercato del Napoli. Non otto, non nove, come l'ho dato a quello del Milan, perché per me il Milan ha fatto una buona campagna e vedete che risalirà. Il problema ce l'ha in panchina, non in campo. E come l'ha fatto l'Inter, che sta risalendo fortissimamente. O come l'ha fatto la Juve, che è da dieci nel mercato. Però Fabian Ruiz, Meret, che vedrete che portiere è, e Verdi, sono giocatori, a mio giudizio, molto ma molto buoni. Però per la prima volta avevo detto una cosa. Carlo Ancelotti avrebbe dovuto avere quello che aveva consigliato a De Laurentiis, che De Laurentiis poi ha raccontato. Il famoso 31enne d'esperienza che fa aumentare il livello della squadra. Ma non, Presidente, compra i top player. Non ha senso. Ho sempre detto che ci sono i tettingaggio, il bilancio, i ricavi. Ho sempre difeso la politica aziendale. Potevo mai impazzire all'improvviso e associarmi a tutti quelli che non capendo niente di gestione aziendale e di economia. Volimmo top player. No, il discorso che ho fatto io era molto semplice. Quest'estate bisognava salutare, con affetto lo dico perché sono giocatori che amo, ci hanno dato tanto, Ciro Driss Mertens e Marechiaro Amsic, il grande capitano, per aumentare il livello. Dovevamo salutare due dei nostri top player per prenderne due con più pedigree, con più curriculum, con più capacità di lottare a certi livelli perché lo hanno fatto nella loro vita. Amsic e Mertens non hanno mai vinto niente. Non hanno mai lottato a certi livelli. Hanno imparato a Napoli come si fa. E puntualmente nelle grandi battaglie scompaiono. E io amo questi giocatori. Il capitano rimarrà nella storia. Mertens sarà uno degli attaccanti che ricorderemo negli anni. Ma se vuoi aumentare il livello e competere per la Champions, se vuoi rispondere alla Juventus, devi far arrivare due giocatori al posto loro. Ma non vicino a loro, al posto loro. Ma perché? Perché bisognava liberare il monte ingaggi degli ingaggi più grossi che il Napoli ha, dopo quello di Insigne intoccabile insieme a quelli balì, i due intoccabili veri. E allora, liberando il monte ingaggi degli ingaggi di Mertens e di Amsic, si sarebbe dovuto puntare su due giocatori di grossa esperienza, di livello alto, che fossero stati insegnati. Però il Napoli, giustamente in dieci, ha mostrato una reazione da grande squadra. E la Juve non ha fatto un tiro in porta. Per dieci minuti il Napoli ha chiuso la Juve e stava per pareggiare con Cagliecon. E quando ha preso la mazzata, gol sbagliato, gol subito del 3-1, poteva prendere l'imbarcata e invece ha retto, come fanno le grandi squadre. Quindi ho detto ieri, e lo ribadisco, che per me il Napoli di Carlo Ancelotti, che è un grande allenatore, che sta cambiando la pelle a questa squadra, e lo ha fatto anche in tempi veloci, perché io avevo detto Carlo non hai tempo, arrivano subito i macigni, Juve e Liverpool. O trovi la quadra subito o vai incontro a brutte figure. L'ha trovata tra Torino e Parma. E infatti non ha fatto brutta figura a Torino. Certo, sei punti in sette partite sono tanti, ma ne rimangono 31, e c'è la partita di ritorno, e quindi possono essere anche pochi. E c'è l'Inter che rientra, e quindi la lotta si allarga. E il Napoli ha avuto un calendario difficile, che paradossalmente diventa un punto a favore, perché ora saranno gli altri a dover incontrare Lazio, Milan, Sampdoria, Fiorentina, eccetera. Quindi nulla è perduto. E invece no. Bisogna attaccarsi alla questione arbitrale. Banti. Allora io ve lo dico chiaro, l'ho detto prima della partita. Banti non andava designato, perché gli arbitri all'ultimo anno sono pericolosi. Non hanno più nulla da perdere. Però è un'arma a doppio taglio, perché un arbitro non ha più nulla da perdere. Non ha neanche più la soggezione psicologica che dire io devo fare carriera, quindi devo aiutare i potenti. Però è anche quello alla Ceccarini, che nel momento opportuno ti può dare l'amazzata, tanto lui ha finito. Ma ieri Banti non ha dato nessuna amazzata. Banti ha arbitrato male. E' arbitrato pro Juve. Come sempre, capita a Torino. Niente di nuovo sotto il sole. Perché la gestione dei cartellini è stata iniqua. Ma Mario Rui ha fatto due errori gravissimi. Oggi, sul blog Luca Amarelli, grande osservatore arbitrale, ex arbitro di prima fascia, professionista, lo ha detto. Sono due falli imprudenti. Il fallo imprudente da regolamento è giallo. Non c'è nulla da dire. L'ammunizione a Coulibaly è corretta. Stende Cristiano Ronaldo che gli fa tunnel. L'ammunizione a Usai è corretta. Tira per la maglia e fa ostruzione al centrocampo e fallo d'ammunizione. L'ammunizione a Insigne per tutto il parapiglia. Ci sta. Anzi, se vogliamo, due dei nostri non li ha ammoniti. Zierischi su Dybala, al quantesimo primo tempo, andava ammonito. Allan, che fa la sceneggiata sulla presunta testata di Bonucci, andava ammonito. Vogliamo essere onesti? Dall'altra parte però è una ecatombe. Al ventunesimo c'è un fallo di mano ai Chiellini clavoroso che ferma un'azione del Napoli. Quello è un giallo, ma no, proprio di dimensioni ciclopiche che non viene dato. Al sessantesimo la testata di Bonucci non è una testata, è una testa che poggia sulla fronte di Allan. È giusta l'ammunizione. Non c'è espulsione. Cansello su KK, cioè su Dybali, è ammonizione, viene data. Dov'è che ha sbagliato nei confronti della Juve? Quando Cansello entra sul Zirischi e non gli dà il giallo, poteva diventare dopo secondo giallo. Quando Ronaldo butta via la palla nella prima delle due azioni a gioco fermo, lì è d'ammunizione. Sulla seconda no, perché l'abito ha fatto continuare l'azione, quindi il tiro ci sta. Ma soprattutto ha le bannaggine dei giocatori del Napoli che si sono fatti schiacciare da un certo punto in poi. E per Mario Rui, che fa due entrate ed è già recidivo, che non deve fare un giocatore di quel livello quando gioca a queste sfide. La prima cosa deve essere un giocatore di livello nella testa. E lì dimostra che nella testa non c'è a quei livelli, perché non puoi fare quelle entrate dissennate. Puoi anche non far male al calciatore, ma ci sta l'ammunizione. E lo devi sapere che se sei già ammonito e stai giocando a Torino con la Juventus, dove i cartellini sono facili, te lo vai a cercare. E allora cerchiamo di ragionare, ragazzi. Tutti quanti. Il Napoli esce a testa alta da Torino. Il gap è aumentato, ma non c'è quello che tutti pensavamo. Corsa a sede della Juve. Io penso invece che la Juve se lo deve sfangare, questo ottavo scudetto. E che il Napoli sia sempre la seconda forza del campionato. E voglio dare un'inizione di fiducia a tutti. E francamente, ve lo dico sinceramente, ieri di azioni e gol sono state 5 per la Juve e 4 per il Napoli. Quindi il divario è minimo. Il Napoli ha dimostrato che non c'è questo divario enorme. Partiamo da questo e non dalle polemiche esterili. Quelle ci allontanano dal vertice. Non il gioco che abbiamo visto della squadra di Ancelotti. Cosche, Tandem, Mabutere, Caterina, pazienza nostra. Questo vi dico perché non ne posso più di sentire solo piagnistei. Ho finito, grazie.